Anno nuovo, nuovo programma. Da gennaio una nuova trasmissione dedicata alla ristorazione Show Cooking al ristorante prodotto da Saporiciame che ci porterà indietro le quinte dei ristoranti alla scoperta dei segreti delle cucine dove gli chef realizzeranno per noi piatti tipici della tradizione oppure ricette ripresentate secondo le ultime tendenze. Seguiteci sulle nostre pagine Facebook, Instagram, Youtube e Twitter. Vi aspettiamo numerosi, da gennaio non mancate. Ciao!